Cosa può causare dita dolorose? Molti problemi diversi possono causare dita dolorose, ma alcuni sono più comuni di altri. Il dolore alle dita può essere indicativo di un disturbo grave, quindi è importante andare da un medico se il dolore è persistente e non correlato a una lesione diretta. Quando si pensa al dolore alle dita, è importante pensare al tipo di dolore e alla posizione. Il dolore alle nocche è diverso dal dolore sulla punta delle dita, e il formicolio è diverso da un dolore sordo. Essere osservanti può aiutare con una diagnosi rapida e spesso di recupero. Quasi certamente, la causa più comune delle dita dolorose è la lesione. Gli infortuni possono verificarsi in singoli incidenti, come colpire o distruggere le dita, ma possono anche verificarsi per un lungo periodo di tempo. Le persone che usano costantemente le dita per determinati compiti possono sperimentare più lesioni di questo tipo rispetto a coloro che svolgono una varietà di attività. È possibile che le dita si feriscano in questo modo dalla digitazione, dalla riproduzione di uno strumento o persino da certi mestieri. A volte, il dolore affiorerà solo durante l'attività che ha causato il dolore. Non è necessario che le ferite colpiscano le dita. Le dita dolorose possono derivare da lesioni come ustioni, comprese le scottature solari, e possono anche verificarsi quando una persona ha il congelamento. È anche possibile provare dolore alle dita quando il problema è in realtà un problema di pelle derivante dal toccare qualcosa a cui una persona è allergica. Esistono molti modi diversi per ferire le dita e la fonte del dolore potrebbe non essere sempre ovvia. Un'altra causa comune di dita dolorose è l'artrite. Il dolore dovuto all'artrite è solitamente sentito nelle nocche. L'artrite può essere curata fino a un certo punto, quindi se qualcuno crede che il dolore sia dovuto all'artrite è una buona idea vedere un medico. Le cause più rare delle dita dolorose includono malattie come il fenomeno di reino, la malattia vascolare periferica e altre malattie che causano sintomi alle dita. In alcuni casi, le malattie che causano dolore alle dita delle mani e dei piedi possono influenzare altre parti del corpo. Queste malattie possono essere più gravi del semplice dolore, quindi è importante discutere il dolore con un medico. Altri problemi che possono causare dolore alle dita includono gotta, danni ai nervi e tunnel carpale. Alcuni dolori alle dita sono specifici per determinati movimenti, come muovere il dito in una determinata direzione o in un determinato momento. Il dito grilletto, ad esempio, è caratterizzato da dolore che si verifica quando si sposta un dito bloccato. Prendendo atto di quando si verifica un dolore grave e cosa stava facendo il sofferente quando il dolore si presentava può essere strumentale nel determinare la causa del dolore alle dita. Questo tipo di dolore può essere causato da una vasta gamma di malattie e lesioni, quindi essere specifici è molto importante per la diagnosi.